è scoppiata l'allerta coronavirus all'ospedale una donna in osservazione nella zona di codonio 14 contagiati tutto cominciò quella sera e nessuno aveva ancora idea di che cosa sarebbe accaduto da lì a qualche giorno 21 febbraio 2020 21 febbraio 2022 sono trascorsi ben due anni il covid si è abbattuto su piacenza e sul mondo come uno tsunami lasciando dietro di sé vittime paura isolamento sociale oggi ci si chiede come fosse la quotidianità prima del coronavirus quando non si aveva paura di avvicinarsi all'altro di parlare senza distanziamento e mascherina quando la libertà non era negata all'inizio era solo il paziente 1 di codonio mattia poi sono stati migliaia i contagiati e nella nostra provincia oltre 1700 persone ad oggi hanno perso la vita a causa del virus 33 morti ieri 26 oggi prosegue la strage legata all'epidemia di coronavirus nella nostra provincia marzo 2020 ha segnato il punto di non ritorno con oltre 30 morti al giorno reparti al collasso pronto soccorso dell'ospedale di piacenza preso d'assalto da 150 persone al giorno medici e infermieri che si ammalavano uno dopo l'altro turni massacranti e il dolore di non poter salvare tutti nelle strade sfrecciavano solo le ambulanze incessantemente era l'unico suono che squarciava il silenzio spettrale che aveva avvolto la città tutti chiusi in casa chiusi nel proprio dolore tutti a cercare di proteggersi perché il nemico era lì fuori pronto a colpire invisibile ma devastante qui siamo a pronto soccorso di piacenza dove si è combattuta la battaglia più dura che cosa ricorda di quei giorni no no ricordo tutto qui sono stati due tre giorni al massimo di apparente quiete poi progressivamente è arrivata la tempesta il cui acme il periodo peggiore l'abbiamo avuto intorno insomma nella 10 15 marzo dove siamo arrivati ad avere 150 barelle in pronto soccorso di pazienti con polmonite di pazienti in gran parte gravi in attesa di posto letto arrivati ad una situazione che mai potevo immaginare nella mia vita in cui tutti i posti letto del pubblico del privato sono stati dedicati al covid come se per incanto non esistessero più le altre patologie un'esperienza professionale e umana indimenticabile oggi ricordi di quei giorni sembrano quasi sbiaditi ma non siamo fuori della pandemia anche se la vaccinazione le restrizioni ci hanno protetto di più e si intravede una luce in fondo al tunnel le vittime e il dolore delle famiglie colpite dai lutti restano però immagini indelebili nella memoria e le cicatrici sono ancora lì tatuate sul cuore lì tatuate sul cuore